Salve a tutti e benvenuti qui su ilerastep. Allora, in questo nuovo tutorial su Serum andiamo a vedere adesso come funziona il sub e come funziona il noise. Anche se appunto sembra una cosa semplice, ma per chi appunto utilizza da poco questo plugin è ovvio che deve conoscere perfettamente ogni singola funzione. Allora, senza parlare troppo, vi faccio vedere adesso come poter utilizzare questo altro oscillatore, perché poi possiamo utilizzarlo anche come un terzo oscillatore. Però abbiamo a disposizione delle forme d'onde semplici e non complicate come in questo caso. Come potete vedere, una volta che apriamo per la prima volta il Serum, abbiamo solamente attivo l'oscillatore A. Tutto il resto è disattivato. Infatti adesso, vedete, solo questa qua, solo questa forma d'onda sta suonando. Ora io disattivo questo oscillatore, metto play, non si sente niente. Però adesso possiamo attivare il sub per farvi vedere come funziona. Attivo il sub. Ecco, vedete? Il sub è abbastanza basso. Posso alzare un pochettino l'ottavo per farmi sentire meglio. Soprattutto se ascoltate dal vostro cellulare, non si sentirà completamente niente messo così. Quindi metto così, così vi faccio ascoltare. E se semplicemente qui lascio i soldi, abbiamo le varie varianti. Possiamo utilizzare questa. Possiamo utilizzare questa che utilizzo io molto spesso per dare più corpo. Questo triangolo. Vedete che, al contrario di questa, questa ha un pochettino di armonica in più. Molto comodo appunto se ho, con questo oscillatore, creato magari un suono troppo debole. Con questo quindi posso rafforzare il sub, senza magari mettere un saturatore dopo. Possiamo quindi mettere questa. Possiamo scegliere adesso questo tipo di forma. Questa o questa. Sempre per dare ovviamente più corpo ai nostri suoni. Questo è poi da decidere una volta che andiamo a creare il nostro suono, la nostra forma d'onda qui con questi oscillatori. La cosa che fa impazzire del serum, al contrario del massive, qua possiamo quindi avere un sub per i fatti nostri. E soprattutto possiamo scegliere, possiamo attivare il direct out. Con questa funzione attiva, se qua mettiamo riverbili, filtro, va bene, delay, per adesso disattivo, così vi faccio vedere con e senza. Anzi, mettiamo pure un distorsiore così. Il mio sub sta passando negli effetti. Ovviamente gli effetti li utilizzo per le forme d'onda. Però, se faccio così, il sub non passerà sugli effetti, ok? Passerà su un'altra uscita. Vedete? Senza. Quindi così possiamo mantenere il sub bello tranquillo, bello pulito pulito. Ovviamente se avete il pensiero di lasciare il sub pulito attivando questa funzione, dovete separare poi le frequenze. In un video ho fatto vedere come ho splittato, semplicemente, questo qua mi pare che è. Sì, ho creato questo rack, mid e low. In tal caso, dovete vedere il tutorial che ho fatto qui sempre su questo canale, dove ho fatto vedere come creare questo rack. Ecco qua, questo è il tutorial, infatti. Tutorial di separare le frequenze con Ableton. Salve a tutti ragazzi, eccoci qua e bentornati con un altro nuovo tutorial. Questo è molto comodo, così almeno metto in solo. Posso lasciare il sub, se ovviamente qua metto questo e questo, io posso... Perché molto spesso poi qui vado a mettere gli effetti, ad esempio vado a mettere un saturatore, vado a mettere un multibanda, vado a mettere soprattutto un riverbero, perché non lo uso quasi mai da qua, lo uso poi direttamente da Ableton stesso. Vedete che poi effettivamente... Anche il sub. Quindi in questo caso prendo poi gli effetti, li seleziono e li vado a mettere semplicemente qua. Così mantengo il sub pulito. È vero il basso per i fatti suoi. Oltre appunto a mettere direct out, così non passa negli effetti, anche qua faccio una sorta di direct out, così non passa tra tutto questo pasticcio di effetti che ho messo. Soprattutto il reverb, eccetera, eccetera. Questo sub posso utilizzarlo anche semplicemente se io posso andare a creare appunto l'FM, quindi la Frequency Modulation. Posso fare Frequency Modulation from Sub. Ok, quindi sto utilizzando praticamente la frequenza modulante che è questa qua. Posso anche questo bypassarlo. Posso cambiare la forma donna. Con questo qui ovviamente posso cambiare le ottave. Posso scendere. Poi ho un controllo del pan. Left, right. Volume. E quindi come ho detto prima, direct out. Invece qui sotto su questa sezione del noise posso scegliere ovviamente anche qua appunto ho questa selezione in questo riquadro come quella degli oscillatori. Posso scegliere che tipo di rumore appunto abbiamo a disposizione. Ovviamente questo qua VR sono i rumori che ho scaricato io dalla libreria di Virtual Riot. Per aggiungere altri rumori o semplicemente potete aggiungere anche una voce. Magari poi vi farò vedere come portare un file audio qui all'interno del serum. Semplicemente con un drag and drop. Oppure se volete mettere magari qua un pink noise se magari non lo trovate, io posso andare direttamente nel percorso che adesso vi farò vedere. Andiamo quindi nel percorso documenti, serum preset, poi andiamo ovviamente su noise. Ecco qua abbiamo le stesse cartelle che abbiamo qua. Le cartelle che creiamo creano semplicemente delle categorie. In questo caso vedete che poi sono semplicemente dei file audio, dei file wave. Posso aggiungere tutti i rumori che voglio, anche di una tv rotta. E poi tra le varie funzioni che abbiamo appunto su questo noise è la possibilità di cambiare il phase dove inizia il rumore. Quindi il punto iniziale. Questo praticamente è il round che è praticamente il random. Stessa funzione che abbiamo qua, vi faccio vedere, come ho fatto nel video precedente, è questo il phase. Abbiamo la stessa cosa. Poi abbiamo queste altre due funzioni che la prima ci permette di appunto stoppare quando appunto raggiungiamo un limite. Guardate, io vado così, metto questa nota. Mettiamo un'anzi più lunga. Guardate che adesso... Si ferma. Vedete? Spoo. A tutti i secondi si fermerà. Poi abbiamo questa altra funzione che praticamente andrà a seguire adesso il cambiamento delle note. Adesso guardate. Posso alzare. Quindi non zonerà sempre la stessa nota, ma posso cambiare anche... O per esempio la stessa nota, anche se cambio. Poi posso cambiare il pitch. Anche qua posso poi modulare. Posso cambiare il pan. Posso cambiare il volume. E anche qua posso fare una frequency modulation. Attivo l'osciutatore A. Sempre qua. Frequency modulation da noise. Ovviamente metto così per non fare casine. Abbasso il volume. Posso cambiare il noise che voglio io. Con questo posso cambiare poi quello successivo. Ok ragazzi, questo è stato un tutorial abbastanza semplice, un tutorial abbastanza corto. Però poi nel prossimo video andremo a vedere come utilizzare i filtri, tutte le varie modalità. Così pian piano possiamo memorizzare tutto quello che abbiamo visto, anche le cose più semplici. E poi passare alle cose un pochettino più complicate. Soprattutto poi la possibilità di editare la nostra forma d'onda. Ok, quindi nel prossimo video andremo a parlare dei filtri. E dopo i filtri, finalmente passeremo alle modulazioni. Così andiamo subito a modulare qualche parametro. Io vi ricordo come al solito di lasciare un mi piace se questo video è piaciuto, ovviamente. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi. E attivate pure la campanellina se volete restare sempre aggiornati. Vi do appuntamento al prossimo tutorial. Vi auguro una buona giornata, una buona serata e una buona musica. Ciao a tutti!